Da travo una voce fuori dal coro. La parrucchiera Silvia Vettorello invita a rialzare le saracinesche solo in un contesto di reale sicurezza, altrimenti si può aspettare anche un'altra quindicina di giorni. Dal mio punto di vista, secondo me, non c'è bisogno di correre troppo. Abbiamo aspettato due mesi e mezzo. Secondo me si può aspettare ancora due settimane, dieci giorni. C'è il tempo comunque di capire un attimo anche cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo muovere. In questo periodo il settore, già di per sé penalizzato, è stato ulteriormente colpito dal fenomeno dell'abusivismo. Ci sono persone che viaggiano tranquillamente a lavorare in casa e fanno il lavoro abusivo, che è cosa da sempre, esiste da sempre. Però secondo me in questa fase, in questo periodo, in questo momento, non è assolutamente giusto. Come nel resto della provincia, anche a Travo i clienti non vedono l'ora di potersi tornare a tagliare i capelli, ma Vettorello ripete di non correre troppo. La richiesta è alta, le persone sono lì che aspettano, però io mi sento un po' in difficoltà. Un appello alla prudenza che nasce anche dall'esperienza vissuta in famiglia con il coronavirus, un nemico invisibile che potrebbe risvegliarsi al minimo passo falso. Mio marito all'inizio ancora dell'emergenza ha avuto 17 giorni, è stato veramente male.